Allora, progetto Fuzzalla che resiste all'attacco della Coccinella, non è stato che la Coccinella più forte ha provato a riaprizzare la partita, uno degli artefici di Castiglione, ha sbarato la strada, soprattutto in occasioni molto importanti della gara. Noi oggi abbiamo sofferto tutto il solito, perché era una squadra di noi, organizzata, complice anche delle nostre fiste, abbiamo rischiato di fare un'attacco della scuola in questo momento. Voi che cosa vi abbiglia? Una squadra molto abbastanza, perché la mancanza di un'Italia è un'attacco di 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 un'attacco. Questo è quello che voi vi chiedete sempre prima di partire. Ci sono stati molto importanti impegni da qui fino alla scuola che ancora manca tanto. Sì, noi faremo il nostro per provare a rimanere lì. Il campionato è ancora lungo, quindi sarà una lunga strada. Allora, Chiara Di Lorenzo, c'era l'occasione per poter puntare almeno qualche cosa di buono e sparire nel lungo? Sì, purtroppo nonostante la buona prestazione, anche oggi non siamo riusciti a fare punti, però sicuramente si parte da una buona prestazione oggi per le prossime gare. Dobbiamo prendere sempre la pinta al cuore che c'è stato oggi, sicuramente. Non si muova niente. No, sicuramente mai.